Ancora comportamenti scorretti ai danni di Estra di operatori di luce e gas. Estra ricorda che si avvale di call center iscritti nel registro operatori di comunicazione e che il suo personale ha il tesserino di riconoscimento. Estra e Consiag acquistano Bisenzio Ambiente, la società del comune fiorentino di Campi Bisenzio, che gestisce un impianto per il trattamento dei rifiuti speciali, settore nel quale Estra consolida la sua presenza. Nel 2021 è cresciuto fino a 413 milioni di euro il valore del patrimonio di Estra, con un aumento dal 57,4% al 63,2% dell'incidenza sul capitale raccolto. Vendita di gas e luce, distribuzione di metano e interventi di efficienza energetica in aumento nel 2021. Il bilancio di Estra ha fatto registrare performance industriali molto positive. Grazie per la visione!